...i presenti, ben trovati per quest'ultima tappa, la finale del circuito Palli Lombardini, 2014, ultima giornata di gara che si apre con la categoria, il successo, categoria alta. Ha già fatto il reso in campo, il primo sinodo, è il numero 3 di Sio, la mano di Sio e Federica Calendari, dal senso estico, la campagna. Sio e Federica Calendari, dal senso estico, la campagna di Sio e Federica Calendari, Sio e Federica Calendari, dal senso estico, la campagna. Sio e Federica Calendari, dal senso estico, la campagna. Grazie a tutti.